Faranno il loro debutto già a partire da questo fine settimana le isole pedonali di Viale Trieste. I lavori di verniciatura e l'installazione delle strutture previste dal progetto, tra cui panchine, fioriere, gazebo e lanterne, sono quasi giunti al termine e dunque i tratti compresi da Viale Zara via Ninchi e poi da via Marconi fino a via Pola si apprestano a chiudere al traffico per rimanere accessibili alle passeggiate di pesaresi e turisti. Ci stiamo preparando, domani pomeriggio dovrebbe essere tutto terminato, abbiamo perso un paio di giorni per la pioggia perché la segnaletica a terra non si poteva fare con l'asfalto bagnato, però i nostri operai del centro operativo stanno recuperando il tempo perduto e da qui a domani, al primo pomeriggio, sarà tutto terminato. Mancano appunto le fioriere che stanno arrivando, le avevamo stoccate al centro operativo e i teli dei gazebo che vedete più avanti, è un esperimento che avevamo fatto lo scorso anno e quest'anno abbiamo deciso di ripetere, anche perché abbiamo acquistato l'area di Villa Marina, parcheggio strategico per la zona mare. Abbiamo accolto alcune di quelle che erano le esigenze dell'attività commerciale, per esempio allungare il periodo del carico e scarico e dare la possibilità ai taxi di passare, servire la zona, quella carrabile, con la navetta e con il trenino, tutti quei piccoli accorgimenti che già rispetto allo scorso anno ci hanno dato un feedback decisamente più positivo anche da parte delle attività commerciali che alcune delle quali lo scorso anno avevano mostrato perplessità. Questo è un intervento partito dalle esigenze di avere più spazio all'esterno per i locali, ovviamente le norme Covid ci hanno portato a dare molte più concessioni di suolo pubblico e da qui penso a domani, a qualche giorno, vedrete diverse attività che metteranno i loro tavolini sul viale e la passeggiata sarà più comoda sul marciapiede anche in mezzo alla strada. Abbiamo pensato di installare il gazebo, sono 10 che metteremo a disposizione di chi vorrà fare il mercatino, dotati di corrente e di tutto quello che serve. La cifra che abbiamo messo a bilancio complessivamente, conclusa IVA, che il Comune ovviamente non recupera, sono 81 mila euro e quello che mi preme sottolineare è che gli arredi che abbiamo acquistato saranno arredi utilizzabili anche in altri contesti nel momento in cui inizieranno i lavori di riqualificazione vera e propria del viale. Grazie a tutti.